Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Oggi sono qui solo per voi, per fare un video super 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 speciale, insieme ad altri tre ASMR artist, davvero davvero bravi. Per questa collaborazione abbiamo scelto quattro luoghi, ambienti, situazioni e con quattro trigger abbiamo deciso di ricrearli. Quindi nel mio video, questo video qua, ricreeremo la biblioteca. Quindi se tu sei pronto, indossa un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Cominciamo. Ciao, ciao, ciao a tutti, 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 tutti. Ciao, ups, 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 ups ASMR per avermi ospitato qui nel tuo canale. Ciao, ciao a tutti, oggi sono qui in questa fantastica collaborazione con altri tre ASMR artists fantastici. E per questo video con la riproduzione del luogo della biblioteca vi farò sentire il tuono del page flipping, quindi dello sfogliamento delle pagine. Io sono Federico ASMR, io sono Federico ASMR e vi do il mio buon, buon relax. Ciao a tutti, io sono Eva del canale, Eva ASMR e partecipo a questa collaborazione facendo dei magnifici writing sounds. Ciao, grazie per avermi fatto ospitato nel tuo canale, questa sera faremo una collaborazione con 3 ASMR artists. Io faccio la parte dei mapping sul libro, il libro in questione è questo tema, il brutto anadrocolo. un po' di più un po' di più Il nostro corso gratuito è stato molto molto un po' di più no 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 Ok? no 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 I hope I vuoi why didn't I K he E' un po' di più Non è così facile, non è così facile, non è così facile. a presto no 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 piacere Sì. ecco ecco Sì, 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 sì. è tutto l'abbiamo è tutto l'abbiamo E' un po' di più il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 non è vero ora faccio un po' di te Sì, non è vero. il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Sì, no, 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 no. torrò torrò Sì, sì, sì. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, non è vero. per me per me da per me per me Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 no 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 Grazie a tutti.